Lampade abba giursi di un materiale impermeabile, lavabile, sono modellabili, si può regolare altezza, inclinazione, maggior parte per l'interno, diciamo, per abbellire le case, vetrine, gozzi. Da quanti anni lo fai? Sono il terzo anno che pratico questa arte, diciamo. Come l'hai scoperta? Ho fatto tramite internet, ho visto che esiste questa cosa, dopo ho provato una, dopo altra, dopo terza e così. Ti è venuta benissimo. Grazie, grazie. Grazie.